siamo qui oggi per fare un episodio a carpe ma non un episodio a carpe normale oggi io insegnerò a sto tosato guan a ciappare carpe a spinning però un video per insegnare sia lui che a voi la pesca la carpa spinning nei fossi quindi mi raccomando ragazzi per altri video così perché lui adesso è a livello poco sopra la base perché voi non sapete ma appena 10 minuti fa appena tirato su una bella carpa fatto i miei insegnamenti dunque mi raccomando ragazzi se questo video superi 120 mi piace porterò una persona ancora più inesperta per farvi vedere un po' di trucchetti per questa bellissima tecnica dunque mi raccomando ragazzi lasciate like quando vi vedete video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e direi di partire col video iscrivetevi al canale 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 intanto cosa ci serve per questo tipo di pesca? una canna ultraleggera preferibile azione medium o fast o extra fast si può scegliere tubolar e solid tu in questo caso cos'hai? solid solid e come esche si potrebbe utilizzare qualsiasi esca spoon, gomme in particolare anche delle belle hard weight io tra le gomme preferisco utilizzare esche che imitano creature piccoli vermi piccole gamberi eccetera eccetera adesso cosa andremo a utilizzare? cosa andrà a utilizzare? perchè il protagonista del video di oggi sarà lui oggi andrà ad utilizzare piccole creature naturali che gli darò io perchè sennò vuole che trova lui l'esca quindi dai iniziamo a pescare? si dai andiamo provare? faccio vedere così dimmi che uso si ecco è qua ui ho visto onde venire fuori da qua sotto shit si 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 lancia con la mano senza usare il mulinello tieni il mulinello aperto no devi tenere il filo con la mano no aspetta un attimo con la mano quindi così no così ecco 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 guarda la canana che si muove è sempre la è sempre la lanciali più avanti 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 in che senso? dipende dai punti di vista avanti la corrente va di qua la carpa prima era la e si è spostata di la avanti per di la quindi di lanciare di la? eh dovevi? adesso si è spostata e si è spaventata la barramette in teoria dai cambiamo carpa fermo avvicinati avvicinati piano ma avvicini va bene ma potevi metterlo direttamente davanti alla faccia eh vai gli piace gli piace palla perfetta prima carpa si dai che parte ha? dai prendi il godino dai l'arri di l'arri di mettigli il godino davanti c'è ma hai capito come dove secondo te? mettiglielo davanti alla bocca c'è un vero molto brutto questo davvero brutto avvicinati approfitta gira mi chieda la punta sotto girala ecco vai così no vai ce l'ho eccola qua a a e a 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 il primo pesce è andato allora? combattimento corto ma intenso dai che andiamo a prendere un altro nice ora è che comunque puoi appoggiarglielo davanti delicatamente arrivi sull'acqua, piano, scendi, boom adesso arrivi al maestro mi fa vedere, guarda come si fa, guarda 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 non l'ho neanche sentita mangiare no, non ho guardato la mangiata io guarda come si fa a piegare una canna guarda, ui che bella si mi sa come si fa a texas non è che ve lo puoi le puoi ecco qua come si fa, una carpa, appoggiata vicino, piano piano, piccolo insettino e via Guarda che è bella La canna Allora continuate Ci troviamo qua In una seconda giornata perché Quando stavamo registrando La volta scorsa Che era ancora quasi estate praticamente Ma c'era ancora caldo E' venuto su temporale e abbiamo dovuto rinunciare E abbiamo dovuto rimandare per Vario tempo e siamo qua Con il cappotto invernale Però Non ne mordiamo Andiamo a prendere qualche bel pesce Sta spostando Ho 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 Fuck Lo sentito Ho ho he Sì bravo No no Non fa della strada Sì Piano 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 E vai prima carpa subito Guardino Ok va Oh è bello in forma Sì sì tira No Bossa meno Ma stare qua è scomodo Resta dentro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti